Buongiorno a tutti. Questa settimana abbandoniamo per un attimo la programmazione client-side che abbiamo visto nell'ultime settimane, quindi HTML, CSS e JavaScript nel browser, per ritornare a parlare di JavaScript al di fuori del browser e JavaScript in Node.js. In particolare, questa settimana ci concentreremo sulla programmazione server-side, utilizzando sempre Node, e un suo framework, un framework web, che si chiama Express, un framework abbastanza semplice da utilizzare e molto flessibile. In questa settimana, oltre ad Express, parleremo di altri tre argomenti. Parleremo di JSON come formato di scambio dati tra un server e un client. Parleremo di REST come stile architetturale, brevemente, per formattare e strutturare la comunicazione, sempre utilizzando HTTP tra un client e un server. E infine vedremo come utilizzare un database all'interno del server, all'interno di Express, in modo da poter recuperare e memorizzare in maniera persistente le informazioni che ci servono. Concluderemo le lezioni di questa settimana con un esercizio, come il solito, un po' complesso, che servirà come base per il laboratorio di questa settimana, che sarà nuovamente sulla parte server-side. Quindi l'utilizzo di Express e le cose che vedremo. La prossima settimana cercheremo di mettere insieme questi due mondi, la programmazione server-side che abbiamo visto questa settimana, con quanto abbiamo realizzato fino alla settimana scorsa nel browser, permettendo quindi una comunicazione tra un sito web del browser, quindi JavaScript che gira nel browser, e JavaScript che girerà in Express. Ma iniziamo con Express. L'obiettivo, come vi dicevo, è quello di iniziare a implementare un server web, un application server, in JavaScript, che sia in grado di ospitare contenuti statici, come il nostro sito di qualche settimana fa, ma anche API dinamiche, URL dinamiche, capaci di accettare parametri, capaci di rispondere diversamente in base ai parametri che vengono passati, capaci di fornire sia informazioni in formato, diciamo così, grezzo, questo JSON che vi dicevo prima, quindi scambiare dati in formato testuale, sia scambiare pagine web, sia fornire pagine web quelle proprie, e inoltre supportare la persistenza in un database. Il framework che utilizzeremo per implementare questo web server, come vi dicevo, si chiama Express, e ha ovviamente un sito e un repository su GitHub da cui si può vedere il codice e ulteriore documentazione. Partiamo proprio con Express. Allora, Nod, perché innanzitutto ci serve un framework web in Nod? Allora, Nod, come abbiamo visto, va benissimo per creare applicazioni da linea di comando, come quelle che abbiamo fatto nelle prime settimane del corso, e Nod contiene un modulo HTTP, che ci permette, utilizzando solo Nod, Nod puro diciamo, senza installare niente, di attivare un web server, quindi un qualcosa che possa parlare HTTP e scambiare informazioni su HTTP. Il web server, questo modulo HTTP, messo a disposizione da Nod, è però molto molto di basso livello, non è molto, diciamo, amichevole, non è molto semplice da usare, perché richiede proprio di andare a trattare col singolo, diciamo, pacchetto HTTP, con la singola richiesta, la singola risposta, a un livello molto molto basso. Quindi, negli anni, è venuta l'esigenza di utilizzare un framework web per astrarre un pochino il basso livello di HTTP. E, al giorno d'oggi, ce ne sono molti di questi framework web per Node.js. In questa slide è riportata una lista, presa da questo sito, nodeframework.com, dove si può vedere che Express è tra quelli più popolari, vedete, con più di 48.000 stelle su GitHub, rispetto agli altri che sono indicati sotto. È sicuramente uno dei più popolari, sia per gli sviluppatori, è anche abbastanza semplice da usare, ed è anche, tutto sommato, completo o espandibile a piacere. Un vantaggio di questi framework, e quindi anche di Express, è che loro hanno un approccio, diciamo così, minimale. forniscono di base le cose essenziali che servono per un framework web e permettono di espanderli attraverso dei moduli, attraverso delle estensioni, in modo da aggiungere le cose che possono servire a uno sviluppatore web in base alle proprie esigenze. Quindi non sono framework web all-in, che hanno tutto al loro interno, anche cose che magari si utilizzano una volta una volta all'anno, per dire, e quindi abbiano tutta una serie di funzionalità, che magari sono anche utili, ma che non sono sempre necessari. E dall'altra parte, framework come Express non impostano troppo, non forzano troppo lo sviluppatore a seguire certe determinate strade, rispetto ad altri framework disponibili per Node. Allora, come iniziamo a utilizzare Express? Prima di tutto, Express va installato esattamente come va installato un pacchetto Node con NPM. In questa slide sono riportati tre passi fondamentali. Uno lo conoscete già, NPM install Express. L'abbiamo già fatto. Abbiamo installato la redline asincrona con questo comando, per esempio. Quindi con questo comando NPM install installiamo Express di nuovo nel nostro progetto locale alla cartella in cui siamo. L'ultimo comando non dovrebbe essere particolarmente strano per voi. Index.js è un file JavaScript, Node.index.js vi permette di lanciare questo file JavaScript. Quello che essenzialmente fa Node, fa Visual Studio Code, quando premete Run, esegue un comando simile a questo e lancia, esegue, il file JavaScript, il codice JavaScript che è presente nel file che gli passate. La prima riga forse è nuova per voi. Allora andiamo a vederla. NPM è lo stesso NPM che ci serve per installare Express ed è il sistema di gestione dei pacchetti, quindi dell'estensione, delle librerie, dei framework di Node. Andiamo a vederlo. Io ho preparato una pagina di Visual Studio Code, in realtà non c'è neanche una pagina, è solo Visual Studio Code aperto, e un browser, come il solito, col terminale in una specifica cartella. Allora, come creiamo un progetto? Come iniziamo a lavorare con Express? Allora, dato che Express è un framework web estendibile e è buona norma in Express, ma in generale nei progetti Node, partire con NPM init. NPM init crea un progetto, Node.js, vero e proprio, che sia anche condivisibile. Quali sono le informazioni che questo progetto ha? Quali sono le caratteristiche di questo progetto Node che crea NPM init? NPM init crea essenzialmente, ci fa una serie di domande a terminale e crea essenzialmente un file nella nostra cartella che si chiama package.json. Questo file, che si chiama package.json, contiene alcune informazioni descrittive sul progetto che stiamo creando, il nome, chi è l'autore, se c'è una recenza open source e quant'altro, e, forse in maniera più importante, contiene un elenco di tutte le dipendenze delle librerie, dei framework e quant'altro, che il nostro progetto utilizza. Questo è molto comodo perché se io creo il mio progetto, utilizzo Express, utilizzo altre 5-6 dipendenze, immaginiamo un qualcosa simile alla readline async, quindi un qualcosa da installare con NPM install, questo file conterrà l'elenco esatto delle dipendenze che il progetto ha bisogno nella versione esatta che questo progetto richiede. Quindi, se io prendo questo progetto una volta finito, una volta arrivato ad un certo punto, lo salvo e lo passo a voi, voi potete aprirlo, installare tutte le dipendenze nelle versioni giuste con un unico comando e iniziare a utilizzarlo o iniziare a sviluppare, senza bisogno di avere voi che capite quali sono le dipendenze, che ci sono, non ci sono, eccetera. Quindi, proviamo a dare questo comando npm init, così poi parliamo su qualcosa di pratico. Vedete, npm init vi chiede e questo utility ti guiderà nel creare questo file package.javascript sulle cose più comune. Allora, il nome del pacchetto, il nome del progetto, nel nostro caso. Nel nostro caso possiamo chiamarlo express 0. La versione va bene, la versione 1. Se diamo invio viene presa il suggerimento tra parentesi tonde. La descrizione potrebbe essere questo è un progetto per iniziare a lavorare con express. Questo campo è facoltativo. L'entry point, cioè quale sarà il file che verrà lanciato di default, va bene per noi index.javascript, ma potrebbe anche essere main.javascript o qualcos'altro. Ma dato che stiamo facendo un sito, un server, va benissimo, lasciare index.js. Test command, lasciamo lo vuoto. Non abbiamo in questo momento un repository git in cui incunciarlo. Non ci sono delle parole chiave. Ci potrebbero essere, ma non inseriamo delle parole chiave che sono rappresentative del nostro progetto, del nostro package. L'autore potremmo mettere me stesso. e la licenza va bene quella di default. Infine questo tool ci chiede una conferma se tutto quello che abbiamo inserito è ok, va bene. Premiamo nuovamente invio e torniamo al terminale vero e proprio. Allora, se noi andiamo a vedere nella cartella, potete vedere che ha creato un file che si chiama package.json con le informazioni che abbiamo inserito. Le esatte informazioni che ci ha chiesto. A questo punto facciamo npm install express. Con npm install, come capitava per Redline Async, installa express. Vedete, express versione 4.17.1. Ora, se noi andiamo a riaprire l'elenco dei file vedete che è comparso un package.lock.json e se andiamo a riaprire questo package.json possiamo notare che è stata aggiunta una riga, un paio di righe, una parola chiave che si chiama dependency, quindi le dipendenze e quali sono queste dipendenze. Quindi, avendo installato express da terminale, questo file package.json dato che questo è un progetto, ha incorporato quale file abbiamo, quali pacchetti abbiamo installato. Quindi abbiamo installato express, ma non express qualunque, esattamente express versione 4.17.1 che è l'ultima versione. Se noi continuassimo a dire npm install qualcosa, qui questo elenco continuerebbe. E queste sono tutte le dipendenze che servono, che vanno installate per far funzionare il nostro progetto. il file package.lock.json è una versione, diciamo così, più approfondita del package.json che include non solo le dipendenze come express, ma anche le dipendenze delle dipendenze e tutta una serie di altri dettagli tipo l'integrità del pacchetto installato, nonché la struttura di questa cartella node module, che è la cartella, una cartella tipicamente nascosta che contiene al suo interno tutte le dipendenze che abbiamo installato, compreso express che infatti è qui. A questo punto in questa cartella ci manca un file index.javascript nel quale andremo a mettere il nostro a scrivere il nostro primo server express e poi potremo lanciarlo col terzo comando che è riportato in slide che è node spazio index.javascript prima di farlo però dobbiamo sapere cosa scrivere all'interno di questo index.javascript quello che abbiamo visto è un modo per partire da zero con un progetto express c'è anche un modo alternativo offerto da express che è quello di utilizzare un generatore di progetto essenzialmente un generatore di progetto è un progetto che viene creato quindi col fail package appunto json e quant'altro che ha una certa struttura vedete parte con ha un file che si chiama app.json .javascript ha una cartella public con dentro una sottocartella images con una cartella javascript quindi questa parte public è la parte diciamo relativa al client ha una cartella roots con due file al suo interno ha una cartella view con altri file al suo interno con un'estensione strana in questo momento e così via questo generatore che ha delle opzioni genera cioè un progetto su disco uno scheletro di un'applicazione json di un'applicazione express di una certa complessità per ospitare potenzialmente un sito web che abbia sia una parte renderizzato dal server quindi non una single page application o una cosa simile o un qualcosa che lo ricorda ma proprio un server un server un application server che genera le pagine html e le visualizza e le offre al browser in modo che il browser possa visualizzarle questo generatore di progetti si fa con questo comando npx express meno generator dove express meno generator è un tool da linea di comando è un eseguibile ed npx è un comando di node per appunto eseguire programmi eseguibili anche se questi non sono installati quindi questo non abbiamo bisogno di installarlo ci basta fare npx questo npx scarica ed esegue questo comando quando ha finito di eseguirlo cancella l'eseguibile come se non avesse mai installato quindi questo cosa fa genera un progetto con un package.json che include sicuramente express ma include tutta anche un'altra serie di utility di dipendenze che possono essere utili per sviluppare un'applicazione web con pagina html renderizzata dal server una volta dopo aver dato il comando npx express generator bisogna quindi installare tutte le dipendenze con npm install npm install senza parametro va a cercare un file package.json nella cartella in cui si trova e quando lo trova legge tutte le dipendenze e una alla volta le installa tutte all'interno della cartella questo come vi dicevo è un modo alternativo abbastanza completo per quello che ci interessa e quindi per ora proseguiamo con con questa modalità init install express e eseguiamo index.json .javascript questo lo vedremo magari la settimana prossima o la settimana dopo ancora perché ci presenta una struttura di progetto che potrebbe anche andar bene per i nostri scopi allora quali sono i primi passi che facciamo con express questo è un progetto un file express minimo cosa dice? beh prima di tutto bisogna importare express come pacchetto nel nostro file javascript quindi con require express di nuovo molto simile identico anzi a quello che facevamo con il readline sync npm install readline sync e poi require readline sync esattamente identico a quel punto possiamo creare un'applicazione il nostro application server chiamando direttamente la funzione express e dobbiamo fare almeno due cose una la più importante l'ultima che mettiamo nella pagina è da questa applicazione app chiamare il metodo listen su una porta 3000 e dire se vogliamo con una funzione anonima c'è una funzione arrow function che cosa fare quando questo comando è completato con successo cosa fa questo comando cosa fa questo metodo questo metodo attiva il server quindi lancia un server alla porta 3000 quindi localhost 2.3000 e questo è l'ultimo comando che va inserito nella pagina tra la creazione dell'applicazione e il server in un'applicazione di primo passo bisogna definire quali sono le route e quali sono le pagine web cioè che informazioni che url possiamo chiamare possiamo visitare in questo server e che cosa ci fornisce come risposta e come si fa in express si utilizza sempre questa applicazione app e si chiamano i suoi metodi quali sono i suoi metodi get post put delete e quant'altro esattamente i metodi http quindi stiamo dicendo quando ricevi una chiamata http stiamo dicendo car application server quando ricevi una chiamata http get all'indirizzo slash quindi a localhost 2.3000 slash finito lì fai questo esegui questa funzione qual è questa funzione? questa funzione semplicemente risponderà hello world a terminale quindi esegui questo codice questa funzione ha due parametri come vedete uno rec e uno in questo caso scritto r il primo è la richiesta http che arriva quindi un oggetto che rappresenta la richiesta che il client fa al server e il secondo è la risposta che il server deve fornire quindi quando faccio una get alla root quindi localhost 2000 prendo creo un oggetto a disposizione di tipo richiesta un oggetto a disposizione di tipo risposta e sulla risposta questo è da correggere questo è da scrivere res c'è qualche lettera mancante e res sulla risposta mando hello world questo mentre questo ce ne va ovviamente una sola volta l'importazione del pacchetto una sola volta la creazione dell'applicazione e una sola volta il lancio del server una sola volta per progetto noi possiamo definire tante root quanto vogliamo l'importante è che ovviamente la combinazione metodo più percorso relativo sia diverso cioè noi possiamo avere un app.get su slash e possiamo avere un app.post su slash e fargli fare cose ovviamente diverse possiamo avere un app.get su slash e un app.get su slash exams per esempio non possiamo avere due righe che dicono app.get su slash e quali sono le opzioni che abbiamo in questo metodo metodo get o quant'altro dove appunto questo get è esattamente il metodo http e l'equivalente si chiama come il metodo http abbiamo appunto il metodo http più un app.all che dice prendo tutto io non importa se tu mi fai una get una post una put una delete eccetera io rispondo sempre per tutte le chiamate http dopodiché il path relativo partendo da localhost 2.3000 se 3000 è la porta indicata nel 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 file javascript è appunto una funzione che è un handler una callback che viene eseguita quando questa questa root viene viene fatto il match con questa root quindi quando da un browser scriveremo localhost 2.3000 slash verrà chiamata verrà fatto il match tra quelli localhost 2.3000 nel browser è questo perché il browser quando scrivete qualcosa premete invio premete vai esegue una get http e il server processerà questa richiesta e risponderà in un certo modo in questo caso risponderà con una stringa quindi non risponderà con una pagina html completa risponderà con una stringa con scritto hello world questa callback ha come vi dicevo due parametri uno che sta per la richiesta e uno che sta per la risposta e questo parametro richiesta e questo parametro risposta hanno varie proprietà per esempio dalla richiesta possiamo prendere il corpo i dati che vengono inviati nel corpo della richiesta allora voi ricorderete perché state facendo reti1 in parallelo che per esempio la post http può avere un corpo tipicamente ha un corpo della richiesta informazioni che vengono inviate nella post allora questo body recupera il corpo di questa richiesta perché se sono informazioni che vengono mandate sono informazioni che magari sono necessarie da parsificare da elaborare e farci qualcosa poi per esempio abbiamo ip quindi rec.ip ci dà l'ip del server rec.method ci dà il metodo http utilizzato ora ovviamente se ne abbiamo chiamato app.get sapremo che lì ci troveremo una get come metodo ma se noi avessimo usato app.all potremmo decidere di fare cose diverse in base al metodo della chiamata metodo utilizzato per la chiamata params eventuali parametri con nome nella root e li andremo a vedere a breve e per esempio query che è un oggetto che contiene tutte le stringhe di query utilizzate nella richiesta e anche queste andiamo a vederle a breve quindi una serie di proprietà che ci permettono di ottenere informazioni tutte le informazioni che ci servono dall'oggetto richiesta che ci arriva analogamente l'oggetto risposta ci mette a disposizione delle proprietà e dei metodi facciamo un esempio res.send quello che abbiamo visto nella slide precedente manda fa il send di una risposta di un qualcosa res.radirect fa un redirect dalla pagina localhost 2.3000 prova alla pagina localhost 2.3000 un'altra pagina fa un redirect da un indirizzo dalla pagina dall'indirizzo che abbiamo navigato diciamo così a un altro indirizzo qualunque res.json manda una risposta quindi esattamente come send ma è specializzato per mandare una risposta di tipo json si aspetta una risposta di tipo json di nuovo fra breve andremo a vedere cosa è json res.end per esempio come un altro metodo finisce termina dice che quello è la fine del processo di risposta la risposta è completata lì per esempio questo può essere utile in caso di un errore se otteniamo un errore 404 per esempio possiamo impostare la risposta rettp con 404 e poi dare res.end per dire guarda la risposta è finita lì non c'è una risposta valida non c'è un altro tipo di risposta perché hai generato un errore 404 e quindi il processo come dire finisce lì e così via download per scaricare file send file per inviare i file on server per inviare i file a scusate al client e così via e qui praticamente c'è un riassunto di quello che vi ho raccontato sulla tabella res.send qualcosa setta il corpo della risposta della risposta http a questo something e lo restituisce al browser res.end manda una risposta vuota res.status manda il response code per esempio quindi res.status 200 .send quindi setta lo stato della risposta a 200 e lo mandiamo quindi 200k e possiamo anche dire res.status 404 end allora questo end come ricordate manda la risposta ma anche termina il processo perché il 200k ha un send e il 404 ha un end perché se è un 200k probabilmente ci sarà qualcos'altro che c'è dopo nella risposta un contenuto vero e proprio della risposta mentre col 404 essendo not found e sicuramente la richiesta finisce lì res.json manda un oggetto serializzandolo come json per esempio questo download fa appunto il download dal browser quindi non mostra il file non mostra la risorsa ma permette di scaricarla e redirect appunto come vi dicevo fa il redirect dalla url dalla root che viene fatto il match con una url che avete scelto voi che ha scelto il programmatore e questo è Express diciamo di base Express può anche essere esteso principalmente con dei middleware li chiamano così all'interno di Express dei middleware sono funzioni che vengono chiamate per ogni richiesta che viene processata dal server come dice il nome sono cose che si mettono in mezzo sono funzioni che si mettono in mezzo tra la richiesta che arriva dal browser per esempio al server e quello che poi il nostro server il nostro il nostro file index.js dovrà fare per rispondere correttamente a quella richiesta e i middleware si possono utilizzare oppure si possono creare ovviamente i middleware in particolare sono funzioni che hanno di nuovo due parametri esattamente due parametri di prima la richiesta e la risposta e poi hanno questa proprietà next questo parametro next quindi un middleware riceve una richiesta e una risposta un oggetto richiesta e un oggetto risposta può processare la richiesta modificarla iniziare a parlare la risposta e poi chiama next questo next attiva la prossima funzione di middleware fino a quando non c'è più una funzione di middleware e allora si chiama l'equivalente del nostro index.javascript quindi il file vero e proprio il programma vero e proprio di server che stiamo scrivendo possiamo poi registrare se vogliamo un middleware con app.use e il nome del middleware o la callback del middleware nel caso in cui dobbiamo specificare una callback e non solo il nome e noi adesso andiamo a vedere alcuni middleware per esempio express.static è un middleware che cosa fa express.static è una funzione messa a disposizione da express che dice attenzione tutti i file che sono sotto una certa cartella il cui nome lo sceglie lo sviluppatore per esempio public sono file statici devono essere serviti staticamente quindi nel momento in cui arriva una richiesta per esempio per images slash kitten.jpg se sotto public c'è images slash kitten.jpg non viene fatto il match con nessuna root perché? perché questo file è nella cartella public e questo middleware che di nuovo si mette in mezzo tra le richieste e il contenuto effettivo della nostra applicazione si preoccupa di intercettare queste chiamate non fargli fare il match con le root scritte a mano da noi e fornire se richiesto tutte le informazioni tutti i file staticamente così come sono che sono definite nella cartella public qui c'è la seconda versione vedete questa era app.use callback c'era anche una variante con path solo per richieste nel path specifico in cui dicevamo che vanno servite in questo caso come contenuto statico le cose che sono in public ma solo se la richiesta arriva da slash static qualcosa quindi aggiungiamo forziamo in un certo senso la url forziamo in un certo senso un match su un qualche tipo di url che non è quello standard che non è quello normale atteso da questa cartella public dove di nuovo questo static e questo public sono nomi che sceglie lo sviluppatore ovviamente nel progetto ci dovrà essere una cartella public con dentro del contenuto esattamente questo contenuto se vogliamo ritornare a qualcosa diverso da 404 per esempio però questo middleware express.static si preoccupa di gestire tutte queste risorse statiche senza aver bisogno di definire o registrare degli handler di tipo app.get slash images slash kitten.jpeg per esempio un'altra cosa che possiamo fare invece nelle richieste quindi con la root definita mano è recuperare le informazioni che ci vengono passate allora ricordate qualche slide fa in cui vi dicevo che l'oggetto di tipo rec di tipo richiesta aveva delle proprietà come query e come body allora se noi andiamo a fare una get in un browser a localhost post.3000 slash login punto di domanda user uguale qualcosa e pass uguale qualcos'altro e eccetera 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 queste informazioni dopo il punto di domanda sono messe nella proprietà query quindi rec.query ci restituisce tutto questo in particolare rec.query.user come utilizza user come chiave in un certo senso e ci restituisce il valore e rec.query.pass utilizza pass come chiave e ci restituisce il valore 123 questo è una cosa di default che funziona sempre perché sono parametri passati da barra degli indirizzi del browser parametri in chiaro vedete perché chiunque può leggere può manipolarli e recuperabili attraverso questo query non c'è bisogno di utilizzare nessun middleware per fare questa operazione di mapping tra i parametri passati nella url e questo proprietà di tipo query se noi invece facciamo una post o una put quindi una chiamata http che prevede un corpo prevede un body possiamo recuperare le informazioni in questo body con come vi dicevo la proprietà body dell'oggetto rec che viene creato su ogni funzione di root quindi altro esempio in un body abbiamo in qualche formato per ora non concentriamoci su su quale formato in qualche formato nel body abbiamo le stesse informazioni user uguale ldr pass uguale 123 come per query possiamo fare body.user se sappiamo che quelle informazioni sono memorizzate nel body e quindi c'è un qualcosa che dice user uguale user due punti un certo valore e anche body.pass se siamo sicuri che c'è un pass e un suo valore in questo caso però dobbiamo dire a express che tipo di informazione abbiamo nel body o meglio che formato il body utilizza perché mentre qui siamo sicuri qui può solo essere testo perché questo è quello che scriviamo nella url del browser questo è quello che scriveremo qui localhost 2.3000 slash login punto di domanda user uguale luigi questo lo scriveremo qui quindi questo non può essere altro che testo nel body potremmo avere del testo potremmo avere un qualcosa in formato json quindi qualcosa che assomiglia a questo potremmo avere informazioni generate da un form e così via e allora dobbiamo dire a express attraverso l'utilizzo di un middleware quali informazioni che formato delle informazioni ci sono in questo body allora i due casi tipici che ricadono probabilmente nel 99.9% delle volte è che nel body di una post di una put abbiamo o qualcosa che arriva da un form o qualcosa in json allora se un qualcosa che arriva da un form diciamo tradizionale avremo un middleware da utilizzare per poter fare body.user e body.pass quindi avere un valore associato a questa proprietà e un altro valore associato a questa altra proprietà e queste due proprietà riconosciute all'interno dei body dobbiamo utilizzare il middleware url encoded esattamente come facevamo per il contenuto static app.use aperta parentesi url encoded express.url encoded per cui da quel momento in poi da quel momento in cui il middleware è stato dichiarato tutte le post e le put di quella pagina quantomeno di quella pagina javascript di quel file javascript avranno assumeranno che il body sia in un formato form encoded se invece utilizziamo express.json assumiamo che tutte le post put tutti i body che arrivano da chiamata http avranno come body un body in formato json e quindi express potrà automaticamente parsificare il contenuto dal formato giusto e renderlo disponibile in queste proprietà allo stesso modo noi possiamo in maniera analoga possiamo anche personalizzare i path noi abbiamo visto app.get slash possiamo sicuramente scrivere app.get slash login possiamo fare dei pattern con espressioni regolari quindi utilizzare i simboli delle espressioni regolari slash abc punto di domanda di quindi fare il match di url diverse su un'unica root sia con espressioni regolari scritte diciamo normalmente come rispetto a scrivere un'espressione regolare sia attraverso un oggetto javascript che rappresenta l'espressione regolare questi sono modi diversi di scrivere cose molto simili questa è la versione javascript questa è la versione normale a stringa vedete che qui c'è sono le virgolette delle stringhe qui no invece oppure possiamo specificare invece di un path singolo o un path con espressioni regolari un array di path per esempio qui abbiamo tre possibili path due sono stringhe quindi localhost slash abcd viene mappata qui localhost slash xyza viene mappata qui e tutte le orle che rispondono a questa espressione regolare vengono mappate anch'esse su quest'unica root i path inoltre possono essere modulari quindi non solo mappate su cose diverse ma possono prevedere dei parametri al loro interno usando la sintassi due punti qualcosa facciamo un esempio app.get del path users due punti userid slash books slash due punti bookid definisce due variabili in un certo senso una che conterrà l'id dell'utente e una che conterrà l'id del libro pertanto questa sarà mappata per esempio su questa url quindi quando scriviamo localhost 3000 slash users slash 34 slash books slash 89 89 ma anche users 1 books 5 dentro questa verrà chiamata questa root e dentro questa variabile userid dentro rec.params punto userid verrà messo 34 e dentro rec.params punto bookid verrà messo 89 89 come stringa anche se questi sono numeri perché di nuovo tutto quello che scriviamo nella barra degli indirizzi del browser sono stringhe di default quindi abbiamo questo parametro rec.params che sono appunto i parametri che possiamo passare nella url quindi se noi vogliamo recuperare tutti i libri le informazioni diciamo così su un certo libro per un certo utente noi possiamo scrivere questa unica chiamata e andare qui poi a vedere se questo utente gli piace questo libro per esempio e restituire la recensione del libro e quant'altro e possiamo farlo con un'unica chiamata con un'unica root per l'utente 34 e il libro 89 89 ma anche per l'utente 5 e il libro 47 perché questi due sono effettivamente parametri che vengono poi passati qui e possono essere utilizzati nel codice che scrivete in questa arrow function per essere manipolati per esempio per andare a vedere su un database se l'utente 34 ha letto il libro 89 89 e cosa ne pensa le root possono essere sia scritte come abbiamo visto finora quindi app.get e quant'altro tutte all'interno di un unico file oppure possono anche essere divise su file diversi che poi possono essere di nuovo riuniti e collegati tra di loro come utilizzando una classe esplicita che si chiama express.router che è di nuovo un altro middleware sfruttando i moduli cosa vuol dire vuol dire che se noi abbiamo questo è il nostro diciamo index.javascript che definisce qui delle root noi però vorremmo magari avere delle root qui e delle root relative a esame su un altro file un altro file all'interno del stesso server ma comunque un altro file allora quello che noi vorremmo fare è dire ok qui ci sono le root generiche la home page le root relative all'utente le root relative all'università e quant'altro e poi vorremmo mettere le root relative all'esame in un file diverso un po' perché non vorremmo che questo diventasse un file lunghissimo con milioni di root un po' anche per riutilizzo nel senso che se qui abbiamo delle root dedicate agli esami possiamo creare un nuovo progetto con questo file e avere tutte le root degli esami già pronte e un po' anche per la separazione così sappiamo che in app.javascript ci sono le informazioni generiche e in exam.js ci sono invece le informazioni solo le informazioni dedicate agli esami come facciamo allora come prima importiamo express e quant'altro solo che invece di definire qui la root degli esami creiamo un nuovo file in cui di nuovo importiamo express e definiamo questa variabile invece di definire app come express aperto e chiusa parentesi definiamo router o una variabile che volete chiamare come preferite uguale a express.router a quel punto possiamo definire invece che in app.get possiamo definire router.get e esattamente le stesse root che abbiamo definito prima con lo stesso formato abbiamo una richiesta abbiamo un oggetto risposta e abbiamo un corpo della richiesta abbiamo un corpo che gestisce e crea la risposta una volta che abbiamo definito tutte le nostre root in questo caso relative ad esami facciamo module.export uguale a router ricordati i moduli javascript l'import l'export e questa è la versione invece nod con require e module.export uguale quindi exam.js esporta le sue root e anche le sue funzioni che possono essere definite su questo oggetto router e da app.js le possiamo importare le importiamo le importiamo con nome e gli diamo nome a questo router di qui gli diamo nome exam a questo punto diciamo dato che router è un middleware diciamo app.use slash exams exams cioè tutte le volte in maniera simile a quello che capitava con static tutte le volte che arriviamo a una pagina che ci viene fatta una richiesta a localhost di punti 3000 slash exams non usare le root che eventualmente sono definite qui dentro ma devi usare le root che sono definite dentro exams che sono definite in questo modulo quindi slash exams e basta chiamerà questa root slash exam slash about chiamerà questa root vedete questo slash about va a collegarsi subito dopo questo slash exam ovviamente questo slash exam poteva anche essere scritto qui slash exam slash about equivalente solo una scelta stilistica in un certo senso l'idea qui è che questa sia la pagina degli esami queste sono le root relative agli esami e quindi questo file conosca solo le sue root e non faccia assunzioni su come si deve chiamare la parte precedente di path ma che sia chi lo chiama a decidere che questo è exams slash about o è esami slash about o è qualcos'altro slash about altri due middleware che sono utili e che useremo uno è un middleware che si chiama morgan che è un middleware di logging che quindi ci fa il log di quello che succede nella nostra applicazione man mano nel nostro server man mano che lo utilizziamo di default express non fa il log delle richieste che riceve però noi magari vorremmo essere interessato soprattutto per motivi di debug di capire se arriva alla richiesta giusta se il corpo di quella richiesta è corretta e quant'altro e allora possiamo usare un middleware di log che appunto per esempio si chiama morgan questo non è incluso a differenza dei middleware che abbiamo visto finora non è incluso in express e quindi va installato a parte con npm install morgan questo comando aggiungerà morgan al nostro file package.json e a quel punto possiamo importarlo e inizializzarlo con un qualche formato per esempio tiny per avere un log semplice piccolino nel nostra applicazione che per motivi di debug va più che bene un altro middleware interessante visto che abbiamo visto che abbiamo affrontato la settimana scorsa la validazione lato client è per esempio express validator che è un middleware che serve per validare gli input questo middleware cosa fa? aggiunge delle funzioni come check in cui possiamo passare un parametro su check e avere dei metodi tipo is a mail quindi validiamo se questo parametro username è una mail se non lo è viene riempito questo validation results e ci sono degli errori se lo è invece va avanti bene vedete che questo a differenza degli altri è un middleware che si inserisce nel metodo nella root quindi aggiunge un parametro tra il path e gli oggetti richiesta e risposta e definisce alcuni pattern alcune validazioni da fare in automatico appena riceve la richiesta quindi appena arriva la richiesta appena arriva una post a localhost 2.3000 slash user immediatamente express validator va a prendere il campo username del body di questa richiesta e controlla se è un'email poi va a prendere il campo password del body di questa richiesta e controlla se la sua lunghezza è almeno di 5 caratteri e prosegue prosegue poi nel corpo della post prosegue in due modi o generando degli errori per esempio perché la username non è una mail o perché la password è più corta di 5 oppure proseguendo con l'operazione così come va fatta a questo indirizzo ci sono tutta una serie di altri metodi di verifica che si possono utilizzare qui quindi ismail islength sono due di questi ci sono poi molti altri middleware o da installare o a disposizione giusto per fare un esempio esiste il middleware al di là di Morgan che abbiamo già visto o di Static anche che abbiamo già visto e che era già incorporato e c'è un middleware per le sessioni che è consigliato per l'utilizzo in sviluppo e noi parzialmente lo useremo per creare delle sessioni quando parleremo del login tra non troppe settimane e quant'altro questi sono una serie di middleware più forse utilizzati disponibili in Express